Quali sono le differenze tra giudice e pubblico ministero? Entrambi si iscrivono a giurisprudenza, fanno il loro bel percorso e poi fanno un concorso in magistratura e diventano magistrati. Quindi il primo presupposto dal quale dobbiamo partire è che entrambi sono magistrati. Poi però fanno una scelta, cioè decidono se diventare giudici o pubblici ministeri e quindi se giudicare un reato oppure se fare le indagini e rappresentare l'accusa, questo quantomeno nel processo penale. Il giudice quindi decide, il PM è quello che esercita l'azione penale, cioè dice per me se è colpevole dobbiamo fare un processo e poi chiede sulla base delle risultanze nel processo una condanna e rare volte anche l'assoluzione se si accorge di aver preso una cantonata in precedenza. Questo ovviamente è per linee molto generali ma è solo per farti capire l'essenza delle differenze che riguardano solo la funzione all'interno del processo penale. È il diritto penale. Che se?